Esiste un'azienda italiana che da 40 anni mette la sua passione al servizio della nostra sicurezza. Questa azienda si chiama GPS Standard. Grazie alla sua tecnologia GPS Standard protegge edifici pubblici e privati e da oggi con Mates anche la tua abitazione. Mates è un evoluto sistema di security home automation capace di regalarti un'esperienza domotica a 360 gradi. Grazie alla sua connettività anche in modalità wireless, Mates ti permetterà di gestire la sicurezza e i consumi energetici di casa tua, di utilizzare tutti gli impianti e le apparecchiature anche da remoto in modo semplice e intuitivo. GPS Standard mette a tua disposizione un team di professionisti che pegnerà su di te e sui tuoi affetti 24 ore su 24, regalandoti la sicurezza della serenità. Mates High Quality Life